eccoci qui su sfer ciao tre talk ciao allora 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 episodio 9 sono tante robe oggi quell'uomo qui andrà a cercare della sabbia e dell'uovo di pollo perché perché dobbiamo fare una cosa molto ficca molto ficca ovvero una risorsa di cibo perché siamo sempre senza vita il che non è molto buono ed è una farm di polli in particolare adesso prenderò tutto lo corrente mettiamo giù tutto quello che non ci serve io vado a prendere la sabbia non so dove ma vado a prendere la sabbia e cerca ma se va a quella degli obiettivi quindi non mettiamoci i diti dentro lì i diti a posto questi li mettiamo dentro lì non ci sono più i creeper anche perché mi hanno frantumato un po i cosiddetti allora ci servono 9 di abbiamo del carbone devo prendere anche quello no 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 ce l'abbiamo c'è un bel 16 così serviva 9 ma 16 è più bello canne da zucchero non abbiamo noi l'altra volta dicevo il port il il coso degli incantesimi ma come si fanno a fare senza quelle la lana ce l'abbiamo servono i tappeti noi siamo degli indiani vogliamo tappeti poi ci sono anche attenti sono amaro molto bene si infatti una cassa poi ci serve un sacco di ferro anzi tante casse ci sarò perché scavo in diagonale perché si è un pirla come di legno non abbiamo piango fuori ma fuori e lontano 22 bastoncini 4 di legno ce l'abbiamo che roba servono altre 3 casse quindi facendo così me ne vengono due perché so contare non ci credo mi mancano due di legno andiamo a spaccare a mutilare un albero mutiliamo questo mi sono perso fantastico perché da qui ci sono già passato è un fottutissimo labirinto quel posto là sotto perché riesco a fare dritti e non mettere i cartelli tipo in autostrada di lì vai verso niente di lì vai verso niente fantastico questa erba della minchia mi ha rotto le palle oh però un po' si è espansata quasi è arrivata lì dai due blocchi mancano dobbiamo fare un arco intero perché questo non va bene per fare lo hopper lo hopper no una cosa alla volta adesso adesso casse con tre casse facciamo gli hopper uno due tre uno due tre tre hopper perfetto 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 poi serve che minchia serve ah già l'arco l'arco per fare l'arco gli servono i fili i fili ce li abbiamo minchia va che culo train abbiamo era così vero? si fantastico e tra l'altro stavo notando che quell'arco qua non è intero se facciamo così ole bene abbiamo anche quasi fatto l'obiettivo del 64 frecce con l'arco ne abbiamo 48 anche se quello non è per nulla difficile da fare ok ok allora abbiamo l'arco quindi possiamo fare così così e ci abbiamo anche l'hopper e sappiamo e l'hopper il tropper come va la ricerca della sabbia amore? mmm c'è un cazzo non è proprio ah aspetta nulla bravo sei quindi uno due tre mettiamo torcia 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 e facciamo due ripeter poi ci serve col quarzo facciamo così vero ops comparatore di pietra rossa e poi basta i polli vabbè ciao se vogliamo fare una cosa sono una pecore pecore stranamente non ci servono più ah c'era da fare la lana blu ma quella la faremo pian piano guarda quanti lapislazuli abbiamo è un tipo 100 miliardi approssimativamente allora ok quindi niente posso anche iniziare a costruire direi che qua facciamo gli altri bastoncini della ah una leva serve una leva si fa così ok poi direi di fare un po' di staccionate sono risboccato dalla scala che bello fantastico e la terra ci serve anche questi la terra la terra la terra a posto non abbiamo più di terra ah se cosa dobbiamo fare anche se ho paura che vado a fuoco tutto in camino si guarda che praticamente è fatto però voglio farlo figo col netherrack adesso lo faccio ce ne serve un altro vado una scappata nel nether prendo un blocco e me ne torno sto morendo di fame mi stavo per lanciar giù oddio eccoci quando avremo la farm di polli la fame sarà l'ultimo dei nostri problemi sperando che poi non faccio laggare il server la manetta perché sennò piango ok cerchiamo di arrivare in casa allora andiamo 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 anzi questa cosa non mi piace per nulla si rischia troppo di morire guarda l'erba è quasi arrivata oddio non ci credo se l'altro l'altro abbiamo espanduto la storia di là adesso ci espandiamo di qua è sperso è sperso cazzo state ok ok spero che basti perché sennò piango e non volete vedermi piangere vero vero no piangi bastardo no perché non mi vuoi bene fai male al cuore così comunque non ho trovato né polle né però sento le pecore eh ho capito ti piacciono le pecore cos'è se sardo che cosa è brutto maiale ma noi avevamo un accendino eccolo ora io accendo il camino se va a fuoco la casa dai cazzo va a fuoco davvero man lo voglio vedere che va a fuoco io ho spento il camino ci penseremo poi non ho fatto tempo a dirlo che ha preso fuoco il tetto spero che non stia più bruciando perché sennò è un grosso problema ok comincio la costruzione del super coso enorme figo no non è né enorme né figo però è bello è bello diciamo così che mi manda in bestia perché è largo in quella maniera lì e verrebbe storto la sabbia quella lì del nether non va bene per fare il vetro eh no che cazzo la trovo un po' di sabbia ah ma guarda non è un problema mio ti dirò si è anche un problema mio però ma anche la terra è arrivata l'erba alleluia sto gironzolando tipo un'ora senza combiare un cazzo sto aiutando lui io si ora entro in casa no non ti voglio vai via c'è un cane hai della terra vero un po' tipo uno aspetta prendere un pochino allora tipo qua ma intendo tipo basta 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 no però ora poi ormira ci spaventurisco ancora piaci si spaventurista corso coppa Oh! Alleluia! Hai la terra? Mi dai la terra per fuori? Grazie! TVTB! Non è vero! Allora! Tretà la musica? Non sento un cazzo? Ecco andate via! C'è un creeper là sotto! 18 schede tritando... Un cane! Io rivolgo un cane! È morto il mio! Ma vieni creeper! Non fare risse! Perché scoppia sempre! Ho scazzato! Serve un'altra tramoggia! Serve un'altra tramoggia! Guarda! Guarda! Tutto fa scoppiare lui! E ora non abbiamo più legno! Perché io sono stupido! L'ho usato tutto! Man? Sì? Ti bevi? Non trovo più nulla! Cazzo il ferro ce l'ho tutto qua io! Minchia! Non va bene! Non so se cadevi! Ah! Non sonnavo come te! Potrei fare il bungee jump! No! No! Non l'hanno ancora inventato su minecraft! Quindi... Aspetta! Ok! Il rumore di nether! Fastidioso! Perché qua e fa tutto con la pietra così? Che sei da spaccare! E fa abbastanza cagare! Allora! Ma io posso tipo craftare da fuori! Oh! Che bello non avere la finestra! Sento molto... Vagino! What? Così! Così! Ma perché? Ma perché? Ma ancora l'avevo visto! Eh! Bello! Non è una scusa! Non è una scusa! Non sai quella cosa bella? Mmm! Che se mi era lui dietro cadevo giù all'uoto! Fantastico! Va si mette questa così! Poi serve... Una bella base! Così tipo! Il gettato! Kill? Io l'avevo fatto! Ah ecco! Minchia! Non lo vedevo più! Mi sto mettendo a piangere! Distributore! Così! Poi si fa... Così! 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 Cazzo! Eh beh! Ci serve la sabbia! Assolutamente! Se no... Cioè! Vederlo chiuso così è brutto! Well... Ghiaccio! Mmm! Non si può raccogliere! Per ora! E nemmeno la recinzione mi basta! Guardate che merda! Allora... Avvo va! Che fatica! Serve un comparatore così! Poi due ripetitori! Uno così! E uno così! Poi la redstone tutta intorno! Così! 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 Qua ci andrà la lava! Però... Finché non c'è il vetro davanti a tenerla! Un po' un problema se la metto! E poi... Tramoggia! Una che va dentro così! Due... E tre! Poi si fa tutto il contorno per... Mi ci cura di cadere in una maniera allucinante! Così! Così! Ma facciamo prima un test che funziona! Se noi buttiamo qualcosa qua dentro dovrebbe risputarcelo fuori! Infatti! E va nella cassa! Giustamente! Ok! Poi i tappeti! Uno, due, tre! Che stai combinando? Niente! Sento che spammi! Che non è bello quando tu spammi! Molto pericoloso! Le cose qua... Qua sopra ci andranno i polli! I pollastri! Ciao man! Finito! Aia! Ma anche i polli! Esatto! I polli e il vetro! Per chiudere il davanti! Per il resto è abbastanza fatto anche questo! Che sarebbe il nostro circuito di Reston! Io direi che... Visto che il circuito di Reston è fatto... Si può dire l'obiettivo completato! Di uova non ne abbiamo neanche una! Però ho visto un pollo prima! Andiamo a portare qua il pollo in un bordello! Non so se hai idea! Sto cazzo di cane che abbaia! Sto cazzo di cane che abbaia! Bene! Non nel gioco! Eh! Dicevo... Ah! Quel cane! Eh! Se vuoi venire qua fai qualche chilometro! Qualche tanti chilometro! Anche in PG! Ah! Ok! Va bene! Non trovo più l'accetta! Il cane fa sentire stupido! Eccolo! Ok! Aspetta! Questo no! Non lo vogliamo questo! Ok! Finiamo la recinzione! GG! Grazie! Non è bello andare in giro con un secchio di lava in mano! Speraltro quando è tutto fatto di legno! Pecco! Così! Cos'è? Sono un po' troppi? Forse sì. Pollo. Beh, hai dei semi per attirarlo fino a qua. Ma è lunghissimo attirarlo fino a qua. Cane. Cane. Come di... Ho sbagliato qualcosa! Eh, qua, questo va fatto così. E come cazzo ci andiamo noi di là? Come c'è andiamo noi di là? In modo da renderla... Fermabile. Nel senso che... Ho messo via la redstone. Aspetta, aspetta. Allora, poi l'ho messo. Sono fottutamente pigro, a me. Per purtroppo entrare in casa, sto accendo tutto da fuori. Mi sto complicando la vita. Ok, poi un blocco di pietra qua. E una bella leva qui davanti. In modo che quando noi accendiamo la leva, si attiva tutta quella roba lì. E le uova che cadono dai polli, smettono di sparare qua davanti. In modo che possiamo raccoglierle. Nel caso vorremmo più polli da sopra. Perché ovviamente noi abbiamo i polli qui sopra. Ci sono tre polli. E se riesci a portarli. Però puoi farli entrare là un portello. Pure mettili in un buco e aspettiamo che facciano le uova. Comunque. Qui sopra ci andranno i polli. Loro fanno le uova. Vanno qui dentro. Il dispenser qua sparerà automaticamente. E c'erano dei polletti qua sotto. Quando i polletti crescono, questo prese sarà la lava. Prendo un fuoco e qua dentro ci troveremo la pappa pronta. Ed è buono perché ovviamente è automatica. Sarà sempre in funzione. Perché tanto noi siamo qua vicini. Quindi non è un grosso problema. Ete. Tutto qui. Tutto qui. Che figo. Che figo. Io direi che adesso ci cerchiamo un po' di uova. E ci vediamo al prossimo episodio. Guarda l'erbo qua come cazzo va avanti. Che figata. Ciao ciao. Ciao.